L'ospedale di Pescara è l'unico ad avere la possibilità di essere dea di secondo livello. La frase del dottor Albani, a capo della Task Force regionale sul coronavirus e primario del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, che è stata pronunciata ieri davanti alla Commissione Sanità della Regione Abruzzo, nonostante la smentita del governo regionale, sta scatenando un vero e proprio terremoto politico, facendo riaffiorare una questione sopita solo dall'emergenza Covid. Proprio quella per la quale l'ospedale di Pescara si sarebbe guadagnata i galloni di punto di riferimento regionale per le emergenze, anche grazie ad un importante investimento che la Regione Abruzzo sta facendo sul reparto Covid. Albani parla a suo nome e la secca smentita di Marsilio. È un'opinione porzionale di Albani, non so perché l'abbia pronunciata in quella sede, visto che in quella sede lui ci stava come responsabile dell'emergenza Covid, e quindi parlasse in quella sede, parli di Covid e non di idea di secondo livello, che compete invece alla programmazione della rete ospedaliera dell'Aggiunta. Quindi è una sua opinione personale che non impegna assolutamente l'amministrazione regionale. Ma in molti in questa vicenda sono tentati dallo sposare il famoso motto andreottiano, che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. E dunque, soprattutto dall'opposizione e in particolare dal Partito Democratico, c'è chi, come il consigliere Sandro Mariani, dice di essere sobbalzato sulla sedia alle parole di Albani e accusa i consiglieri d'opposizione di nulla aver obiettato nel corso dell'audizione di ieri, peraltro incentrata su tutt'altro argomento. Non possiamo consentire che si faccia un super ospedale a Pescara mentre viene dimenticato il resto dell'Abruzzo. Chiedo agli consiglieri di maggioranza spiegazioni su ciò che ha detto il Dottor Albani oggi in Quinta Commissione, in Commissione Sanità. Chiedo che riferisca l'assessore in merito a ciò. Quindi se c'è qualcosa che bolli in pentola ce lo devono dire, abbiamo il diritto di saperlo. Tra l'altro c'è stata la descrizione di un'emergenza come un'emergenza, quella Covid, naturalmente come un'emergenza gestita bene. Io ho combattuto per tutta la Commissione dicendo e sviscerando che le cose non sono andate così.